Buongiorno e benvenuti su Ricarica Mentale, esploratori di vite passate e seguaci dell'astrologia karmica. Oggi ci immergeremo nelle profondità misteriose delle nostre esperienze pregresse, svelando i segreti celati delle nostre vite passate attraverso l'incredibile lente dell'astrologia karmica. Preparatevi per un viaggio affascinante verso la comprensione del vostro io più profondo. L'astrologia karmica è un ramo affascinante e profondo dell'astrologia che si concentra sul concetto di karma, una parola sanscrita che significa azione o atto. In questo contesto, karma si riferisce alla legge della causa ed effetto, secondo la quale le azioni passate influenzano le esperienze attuali e future. L'astrologia karmica si propone di esplorare e comprendere il karma di un individuo attraverso l'analisi del tema natale. Il tema natale in astrologia karmica è una mappatura del cielo al momento della nascita di una persona. Tuttavia, mentre l'astrologia tradizionale si concentra principalmente sugli aspetti psicologici e comportamentali di una persona, l'astrologia karmica va oltre, esaminando le dinamiche karmiche che possono essere alla base di determinati schemi di vita. Il collegamento con le vite passate è un elemento fondamentale dell'astrologia karmica. Si crede che le posizioni planetarie nel momento della nascita siano strettamente connesse alle esperienze passate dell'anima. Ad esempio, un pianeta posizionato in una certa casa astrologica potrebbe indicare l'area della vita in cui un individuo ha già accumulato esperienze significative in vite passate. Le configurazioni astrologiche, come le congiunzioni, gli oppositori e le quadrature, sono interpretate in termini karmici, suggerendo le lezioni o scopi che un'anima ha scelto di affrontare in questa vita. Le case astrologiche sono anch'esse cruciali. Ogni casa rappresenta un'area specifica della vita, e la posizione dei pianeti in quelle case può fornire indicazioni sulle sfide o sui successi provenienti dalle vite passate. L'astrologia karmica offre uno sguardo più ampio sulla nostra esistenza, suggerendo che le sfide attuali possono essere il risultato di azioni o scelte in vite precedenti. Tuttavia, al tempo stesso, offre la possibilità di crescita personale e di superare gli ostacoli karmici, trasformando il karma negativo in opportunità di apprendimento e evoluzione spirituale. Quindi, l'astrologia karmica ci invita a guardare alle sfide della vita con un'ottica più ampia e a comprendere che siamo i co-creatori del nostro destino attraverso le scelte consapevoli che facciamo oggi. Ma come si calcola il tema natale? Il tema natale, noto anche come carta natale o carta astrale, è un grafico che rappresenta la posizione dei pianeti al momento della nascita di una persona. Per calcolare il tema natale, è necessario seguire alcuni passaggi. Ottieni i dati di nascita, assicurati di avere la data, l'orario e il luogo di nascita precisi. L'accuratezza di queste informazioni è fondamentale per un calcolo preciso del tema natale. Determina l'ascendente, l'ascendente, o segno che sorge all'orizzonte al momento della nascita, è cruciale per il calcolo del tema natale. Puoi utilizzare software astrologici, siti web specializzati o consultare un astrologo per determinare il tuo ascendente. Calcola le posizioni dei pianeti, utilizzando le informazioni sulla data, l'orario e il luogo di nascita, puoi calcolare manualmente o utilizzare strumenti online per ottenere le posizioni esatte dei pianeti al momento della tua nascita. Queste posizioni includono i segni zodiacali e le case astrologiche. Crea il grafico, rappresenta le posizioni dei pianeti in un grafico circolare, dividendo il cerchio in 12 sezioni corrispondenti alle case astrologiche. Ogni casa rappresenta un settore specifico della vita. Interpreta il tema natale, una volta creato il grafico, puoi interpretare le varie posizioni dei pianeti, le case astrologiche e gli aspetti tra di essi. Questa interpretazione fornirà insight sulla tua personalità, le tue potenzialità e le sfide che potresti incontrare nella vita. È importante notare che l'interpretazione del tema natale richiede una conoscenza approfondita dell'astrologia. Se sei alle prime armi, potrebbe essere utile consultare un astrologo esperto per ottenere una comprensione più accurata e approfondita del tuo tema natale. Se volete approfondire il concetto di case astrologiche e avere un approfondimento maggiore sul tema natale ci vediamo al prossimo video. E così, esploratori di stelle, chiudiamo questo capitolo del nostro viaggio con una comprensione più profonda delle nostre radici celesti. Le rivelazioni straordinarie, l'impatto sulla vita attuale e i consigli pratici si fondono in un unico racconto avvincente che vi invita a esplorare il potere nascosto dell'astrologia karmica. Siete pronti per il vostro viaggio? Scoprite le chiavi delle vostre vite passate e aprite le porte a un futuro più consapevole e appagante. Grazie di cuore da ricarica mentale.